Partita dai due volti, quella fra Aurora Alto Casertano e Montegiorgio sul terreno di Pietramelara, valida per il campionato di Serie D. Un primo tempo in difficoltà, la squadra del presidente Montaquila, felice per l'esordio, e un secondo tempo con la squadra che poteva vincere la gara. Due belle sorprese, l'attaccante Lopez e il centrale francese di difesa, Tia, pescato nella Serie B della Croazia, che abbiamo sentito a fine gara insieme a Percuoco. Allora, dalla Serie B della Croazia qui a Pietramelara con l'Aurora Alto Casertano, tu sei stato il migliore secondo noi, come vedi questa squadra? Sì, per me molto contento della partita di tutta la squadra e per me molto bene dopo il campionato. A fine partita sei andato anche all'attacco? Sì, 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 è vero, è molto contento, ma ancora una minuta, ancora, ancora, dai, dai, è obbligato. Grazie. Grazie mille. Allora, Percuoco, la prima partita magari forse il pareggio vi poteva anche soddisfare, ma alla fine potevate vincere. Sì, certamente, abbiamo avuto molte buone occasioni, meritavamo magari qualcosa in più, però dava bene così. Una squadra di giovani che poi ha fatto vedere che già ha le qualità per giocare in questa categoria. Sì, sì, abbiamo iniziato insieme al mister i primi di agosto, abbiamo seguito ciò che ci dice il mister e ce la giocheremo contro a tutti fino alla fine del campionato.